Bene ragazzi sono Fede del Lab Oggi portiamo un video che tratta un argomento un po' spinosello Perché andiamo a misurare con le nostre manine a contare Delle action figure di Dragon Ball piuttosto rare Quelle 10 action figure o comunque sia tipologie di giocattoli legate al mondo di Dragon Ball Che nel mondo del collezionismo valgono un sacco di soldi Sono 10 Poi fatemi sapere quello che pensate nei commenti Mettete mi piace se questo video vi piace In generale vi piace anche collezionare i potellini di Dragon Ball E se ce ne avete i vostri benvenga fateci sapere cosa ci avete E commentate insomma si e iscrivetevi al canale perché siamo molto fighi E se vuoi clicca su questa campanellina accanto Non mi ricordo a che altezza del video Accanto hai iscritto Così almeno avrai più notifiche delle nostre uscite Perché facciamo circa 3 video a settimana Quando non facciamo anche special la domenica e mezzo anche la settimana Insomma teniti aggiornato Iniziamo questa lunga lista con una casa nostrana La Giochi Preziosi Come ben sapete la Giochi Preziosi ha prodotto un sacco di giocattoli a tema Dragon Ball Z nel corso degli anni E questa serie è un repaint dorata della Super Battle Collection della Abbey Toys Questo set include Vegeta Super Saiyan Piccolo Goku Goku Super Saiyan 3 Kotenks Super Saiyan 3 Ed è anche un po' strano perché comprende un piccolo con la veste d'oro Sono considerati piuttosto rari E pare che sia molto difficile trovarne di ancora boxati Abbey Toys è una compagnia francese conosciuta principalmente perché negli anni ha rilasciato svariate versioni di giochi di Dragon Ball Z Dai 12 ai 15 cm e la particolarità molto simile a quella di Giochi Preziosi è che per quanto sia possibile trovare i modelli senza scatola abbastanza facilmente Così non si può dire dire quelli inscatolati Infatti pare che la maggior parte dei collezionisti affermi di non aver mai visto questi giocattoli nel loro box Bandai ha rilasciato un esclusivo Battle Collection composto da tre modelli Che include Super Saiyan Goku, Super Saiyan Vegeta e Super Saiyan Trunks Solamente per una fiera dell'animazione estiva del 1992 In congiunzione con l'uscita del settimo film di Dragon Ball Z I tre Super Saiyan E il modello di Trunks è stato ambito da molti perché unica figure che lo rappresentava con il giacchetto della Capsule Corporation E in versione Super Saiyan al tempo Ad oggi è venduta dai 600 dollari al migliaio in base alle condizioni Questo fantastico modello è stata una esclusiva al Tokyo Toy Festival del 2000 Limitato solamente a 500 pezzi È alto circa 30 cm ed è posizionabile sopra il trono E lo trovate in vendita per circa 1000 dollari su ebay Considerando solamente Red Cold Invece il Mega Freezer che sarebbe da considerare tutt'uno con il modello del padre È addirittura più raro attestandosi a solo 100 pezzi prodotti e messi in vendita Il set completo lo potete trovare su ebay a quasi 2500 dollari Mentre i volumi 1 e 2 con Goku bambino sono abbastanza rari ma ancora reperibili in qualche modo Le serie che vanno dalla 3 alla 20 sono talmente rare che i collizionisti si chiedono se davvero Siano mai state prodotte Infatti è impossibile trovare anche solo delle foto dei modelli della prima serie di Dragon Ball Sono molto simili alla serie della Bandai Super Battle Collection Ma a parte la vaga somiglianza le similitudini terminano lì L'altezza è di circa 12 cm e sono talmente vari coprendo praticamente tutta la prima serie di Dragon Ball Che tutti i collezionisti vorrebbero averli nelle loro teche Si ventila comunque la probabile ipotesi che non siano effettivamente mai state prodotte o rilasciate alla vendita Il modello del 2006 rilasciato durante il Tokyo Toy Festival di quell'anno È forse la versione più rara di Osaru riguardante quella fiera Con solamente 100 esemplari prodotti Ci sono altre due versioni del modello Quella originale con i colori classici limitata a 500 copie E quella che si illumina al buio con 200 È un modello fantastico e sono poche le foto o i video che lo ritraggono E considerate non è neanche in vendita in nessuno dei maggiori dei siti di Astea Online Questo è un pezzo super raro limitato a soli 50 modelli prodotti È facile confonderlo con la versione dorata regula da mille pezzi Ad oggi la versione è in vendita su ebay a 600 dollari Mentre quella con gli occhi rossi non è stata trovata in nessun sito Credo sia inimmaginabile il prezzo di questa statuetta se fosse messa all'asta Questa figure viene in tre versioni Quella classica colorata e uscita in tantissime copie Quella dorata limitata a 100 pezzi E quella nera con solo 20 modelli rilasciati Questa versione è ricercatissima fra i collezionisti di oggettistica di Dragon Ball E il prezzo si aggira intorno agli 800-1000 dollari Parlando onestamente Tutte le statue Zim che riguardano il combattimento di Goku e Vegeta sono piuttosto rare E sono tre per essere precisi La classica con 50 copie che sono comunque pochissime La versione nera con 20 copie e rullo di tamburi La white version con solo 5 pezzi È talmente rara che esistono pochissime foto del modello Sicuramente è un sacro graal per tutti i collezionisti Il primo posto va a questo modello di Goku con i vestiti di Yardrat Il pianeta degli esseri che gli insegnano il teletrasporto per intenderci Completamente mobile È il modello più raro in assoluto di Dragon Ball Talmente raro che esiste solo una foto a rappresentarlo E pare sia stato donato nel 92 Ai pochi fortunati che sono andati ad un festival dell'animazione È talmente raro che davvero si dubita della sua esistenza A parte effettivamente per la foto Ed è stato creduto per anni che il modello fosse solo un prototipo mai rilasciato Fan hanno continuato a rimuginare sul mistero di questo modello Fino a poco tempo fa Quando un collezionista giapponese Ha postato delle foto del modello nel suo blog Dichiarando di esserne possessore Forse l'unico ad ora riconosciuto Pare che sia riuscito a metterci le mani sopra Durante un'asta di Yaujapan Dopo averlo cercato per oltre dieci anni Comunque non ha comunicato quanto gli sia costato il radissimo modello Ma possiamo solo immaginare che abbia speso una fortuna intera per averlo Eccoci tornati alla fine Insomma abbiamo visto queste dieci cose Sono forse pure qualcuna di più di dieci Perché alcune sono delle collections Che però sono incredibili Pazzesche Se uno di voi ha qualcosa del genere O por di che è andato in Giappone Beh a lui Perché alla fine sempre l'antorno le davano O in America Beh a lui uguale Perché comunque sia niente male Scrivi nel commento cosa ne pensi di queste incredibili action figure giochi Regati al mondo di DB Ultima cosa abbiamo Patreon Se ti interessa darci una mano per vedere un po' di cose alternative Seguire un po' di più il nostro canale Vivirlo un po' di più Faccio un salto E vedi un pochino le varie opzioni Sono tante Da Fede è tutto Stellab al prossimo video Musica Musica Musica